Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto un bellissimo Teen 2022 direttamente da San Marino, da Topdex. Ringrazio tantissimi ragazzi che me l'hanno venduto e andiamo subito a sbustarlo. Vi lascio anche in descrizione la loro pagina di Instagram se volete seguirlo. Iniziamo subito con questo sposting. Ringraziamo ancora Topdex San Marino per questo box e andiamo a aprirlo. Allora ragazzi, ovviamente l'obiettivo è la prosperity ma se non la troviamo va bene anche droplet o la di brainstorm. Iniziamo subito con la prima busta. E poi comunque ci divertiremo anche se non troverò nulla. Allora, sulle common andiamo abbastanza veloci. Allora, prima foil, migra bellezza e ostri. Damna ringnister. Sci a polvere di stelle. Bellissimo questa carta. Drag armato del tuono a livello 10. E qui va male rega. Magia però, magia. Magia eh. Apertura marchiata. Va bene, va bene. Non ci lamentiamo. È comunque una carta che stavo cercando. Quindi va benissimo. Apertura marchiata. Qui prismatica. È bellissima, dai. Secondo pack. Ci ha fregato, ci ha fregato. Se era un'altra magia era qualcosa di molto fantastico. Mossa finale Gouki è la prima foil. Vorescenza Radiante è la seconda foil. Benedizione del Folletto è la prima ultra. Uto Dashimashi è la seconda ultra. E Drago Rosa, no? Beh dai, comunque anche questa è una carta giocata. Può andare bene. È un Lazzarango. Ragazzi, confidiamo nell'ultimo pacco. Vediamo se siamo andati in più o se siamo andati in meno. Nel caso ci siamo comunque divertiti a fare lo sbusting. Andiamo veloce. Allora, l'Icomo non ci interessa. Trappolatrice cularia. Alta arte virtuale. Synchro sopraffazione. Legame marchiato. E... Oh, è magia, eh. Torre dei duelli. Che questa non l'ha trovata tantissima, comunque. E Clavix, il moschettiero spaccacero. Questo sbusting è andato male, ma andranno meglio i prossimi. Comunque, ringrazio ancora Topdex a Marino per tutte le carte che mi hanno venduto ieri. Che ho trovato un sacco di roba interessante, quindi andate a farci un salto. E ragazzi, vi ringrazio per la visione e ci vediamo per il prossimo sbusting. Ciao!